Sulla questione vaccini sono stati commessi tanti errori. Il piano famoso che Arcuri doveva presentare al Parlamento, io ho udito Arcuri come Presidente della Commissione Trasporti alcuni mesi fa e Arcuri venne a dirci che sarebbe stato pronto nel giro di pochissimo tempo un piano esecutivo dei vaccini. Cosa significa? Il piano logistico, cioè quali sarebbero state le zone di somministrazione, se si sarebbero utilizzati o meno i medici di base, se si sarebbero utilizzati o meno le farmacie, quali sarebbero stati gli interventi a livello capillare sul territorio, come si sarebbero organizzati all'anagrafe vaccinale. Non c'è ancora chiaretta e gli italiani penso che abbiano il diritto di sapere, al di là del fatto che comunque c'è da fare una battaglia in Europa, come saranno curati e come saranno aiutati nei prossimi mesi a superare l'emergenza. Tutto qui.